Siamo qui per parlare di un libro da ammirare Il massimo esperto di marketing fa all'entrare Suova sombrilla pronto a illuminare Le menti degli imprenditori vieni a scoprire Il marketing è il gioco, questo libro è la chiave Per ficare il volo è successo arrivare Il massimo esperto di marketing non puoi ignorare Sul tuo Kindle in cartaceo devi acquistare Grito con passione svela ogni segreto Da ogni sfida imprenditoriale prendi il volo diretto Dalle strategie Se ho i social network questo libro è l'alleato che ti fa andare oltre Il marketing è il gioco, questo libro è la chiave Per ficare il volo è successo arrivare Il massimo esperto di marketing non puoi ignorare Sul tuo Kindle in cartaceo devi acquistare Il massimo esperto di marketing fa all'entrare La guida perfetta sul tuo percorso imprenditoriale Sarà la luce corretta, ordinalo subito non aspettare ancora E il successo sarà la tua nuova dolce dimora Il marketing è il gioco, questo libro è la chiave Per ficare il volo è successo arrivare Il massimo esperto di marketing non puoi ignorare